Ben ritrovati amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, credo che abbiate seguito la cronaca del prode Francescone Torre, un'altra cronaca con una vittoria di misura di cortomuso o magari avete seguito me sulle nostre emittenti, ogni tanto sono su Tele Lombardia, ogni tanto sono su Top Calcio o magari siete tra i 70.000 che sono andati allo stadio e che sono tornati da San Siro con una vittoria 1-0 di cortomuso, cose che noi facciamo poco, l'avevamo fatta prestigiosa col Napoli, l'abbiamo fatta col Verona, giocando la tipica partita in attesa di un'altra grande partita e insomma che brutta vittoria, mi rivolgo ai soliti criticoni da divano, i covercianisti, mamma mia ma che brutta vittoria quella dell'Intre, lo so, era meglio mettersi qui a spiegare un bellissimo pareggio come quello che i rossoneri hanno ottenuto in rimonta prestigiosa, rimonta a Lecce, mamma ma che brutta vittoria, certo non ci dormiamo stanotte per questa brutta vittoria di misura, ma ragazzi ma ancora devo stare qua a spiegare a questi che probabilmente insoddisfatti della loro vita reale sfogano tutte le loro frustrazioni sull'Inter e sono interisti anche quando vince, è stata la partita del secolo? No, mi aspettavo la partita del secolo? No, visto che ce n'è un'altra importantissima mercoledì a Riad, chi se ne frega ragazzi, questa partita non ce la ricorderemo più già alla fine di questo video editoriale, sapete però che cosa ci ricorderemo? I tre punti, ci ricorderemo il quinto clean sheet, i rossoneri si sono fermati a quattro, almeno su questo siamo davanti, li abbiamo avvicinati in classifica, la Juve ha perso e l'abbiamo raggiunta, certo il Napoli va bene, va, il Napoli è un momento storico, particolare, credo che se l'avessero invitato a giocare i mondiali avrebbe battuto sia la Francia sia l'Argentina insieme, ci sono quei momenti così che poi magari non dureranno in eterno, però adesso star qui a dire ma che brutta vittoria in Coppa Italia col Parma e supplementari e io sono dentro, altri in 11 contro 10, i rossoneri, sono fuori, ho battuto il Verona di misura, 1-0, potevo far di più, potevo giocare Messi, va bene, gli altri hanno fatto 2-2 a Lecce, cosa che proprio non mi aspettavo, così adesso il Milan conserva il punticino di vantaggio, l'Inter ovviamente per la legge dei gol, visto che non valgono ancora gli scontri diretti, ma comunque l'Inter è dietro la Juve perché la differenza a reti con i troppi gol subiti è ancora vantaggio dei bianconeri, malgrado ne abbiano presi 5 e comunque posso dirvi, visto che adesso siamo qua a lottare per il secondo posto, che col Milan a 38, Inter e Juve a 37, vabbè se il Milan può inseguire il Napoli per il punticino che ha, allora anche noi lo possiamo inseguire, va bene? Perché non è un punto che fa la differenza, purtroppo sono i punti che il Napoli ha dato a tutti, ma se sono bravi bisogna riconoscere che sono bravi. Quindi è molto meglio che io sia qui a spiegare, a raccontare una brutta vittoria piuttosto che un pareggio, bello brutto che sia, sono molto contento perché questa è stata una giornata più che favorevole a noi, perché io guardate, onestamente mi aspettavo che la Juventus pareggiasse a Napoli, non che perdesse, che poi anche se ha preso 5 gol sono qua tutti contenti, ragazzi meglio prendere 5 gol in una partita piuttosto che i 5 gol prenderli in 5 partite diverse, perché poi alla fine perdi quei 3 punti lì e non ne perdi di più. Mi aspettavo che il Milan passasse a Lecce reagendo all'eliminazione in Coppa Italia e invece è andato sotto addirittura due volte, poi era chiaro che comunque per la qualità che hanno la partita potessero recuperarla. Lecce ci aveva fatto soffrire anche noi alla prima giornata di campionato, l'unica partita che Lukaku aveva giocato per intero, vi ricordate dove aveva segnato dopo un minuto, ma anche noi avevamo sofferto a Lecce, però siamo tornati con i 3 punti e comunque se siamo anche noi a 37 con la Juve pur avendo perso dalla Juve e se siamo a un punto, il Milan è a 38 e noi a 37 pur avendo perso col Milan, magari vuol dire che questa squadraccia, secondo alcuni, certamente non è una squadra leggendaria, forse ha fatto meglio con le altre, perché se no, capirete, saremmo indietro, molto più indietro rispetto a Milan e Juventus. Quindi mi tengo strettissimi questi 3 punti, sono molto contento per una volta di aver vinto di corto muso, che poi parliamoci chiaro ragazzi. Secondo quelli che sono gli ultimi canoni, il braccio di Yen a un certo punto non è adeso al corpo e ho visto dare rigori, ma all'Inter, Fabri che nemmeno si è consultato col VAR, ha accettato la spiegazione del VAR, neanche andato a rivederlo, non ce l'ha dato e quindi quello poteva essere un rigore. Lautaro in realtà il raddoppio l'aveva fatto, perché non mi è sembrato che la spinta su Davidovic fosse così importante tale da annullargli il gol, e Amen, e quindi comunque il 2-0 anche qua l'avevamo fatto, e forse Yen per una vistosa trattenuta su Geko doveva essere espulso prima, quindi mi pare che la direzione di Fabri, e lo dico pur avendo vinto, non sia scevra da commenti, da responsabilità, ma chi se ne frega, dobbiamo parlare del concreto, io sono un uomo concreto e allora parlo del concreto. Il concreto è che l'Inter ha raggranerato altri tre punti, in un momento particolarmente difficile, non facile, si è rivisto Barella, bene Cialanoglu, bene anche Gagliardini che so che lo massacrate sempre, ma a mio giudizio stasera ha fatto una partita da sei e mezzo, e quindi Correa so che lo massacrate sempre, ma ragazzi è entrato per cercare di trovare quel gol, quell'azione, quel guizzo che possa fargli passare la crisi psicologica, perché è ovvio che quella di Correa mi sembra ovvio, è una crisi soprattutto psicologica, e intanto Lautaro è il campione del mondo, dopo tre minuti, terzo gol consecutivo, l'aveva messa ancora, quindi ci sono quelli che sono tornati un po' giù dal mondiale, non si può dire che Lautaro sia tornato giù. Adesso, siccome lui ha questi periodi qua, c'è i periodi che segna di partita in partita, poi improvvisamente si ferma e non segna per un po' di partita, ecco speriamo che metta in fila anche la prossima partita, perché la prossima partita è la Supercoppa, Ariad, vi ho già detto tante volte, sapete che io sono anche molto prudente, perché oggi con i voli, gli aerei eccetera, comunque spero di raccontarvela da Ariad questa partita, l'ha dal vivo, e adesso si testa la Supercoppa totalmente, penso che un po' stasera l'abbiano avuta anche i nostri giocatori, penso che l'abbiano avuta adesso a parte di scherzi anche i giocatori del Milan, i rossoneri, dei quali temo ovviamente la grande capacità di reazione, è ovvio che vengono da due risultati negativi, l'eliminazione di Coppa Italia e il pareggio a Lecce, Pioli ha detto che sarà un volo poco tranquillo perché ho intenzione di dire delle cose, mentre ci trasferiamo a Ariad, perché domani le squadre partono, io arriverò più tardi, arriverò martedì in Arabia, quindi temo lo spirito di reazione del Milan come sempre, temo che noi come al solito ci si possa sentire inutilmente e falsamente al momento più forti, tanto in classifica sono ancora avanti loro, di un punto, qualcuno mi dirà ma scusa ma perché parli di rossoneri? Sì faccio giornalista e quindi parlo di tutto, con buona pace vostra se non vi va andale e soprattutto parlo anche delle altre perché vi spiego il campionato di calcio è una competizione a squadra e per cui le fortune dell'una sono le sfortune dell'altra e viceversa soprattutto quando sei in un fazzoletto di punti perché se no parlerei del giro del mondo a vela in solitaria oppure del record dell'ora, questo è uno sport a squadra molto legato agli episodi e ai risultati che l'una e l'altra mettono in fila e comunque che brutta vittoria, andate avanti a rompere i coglioni, che brutta vittoria, intanto sono tre punti, vi saluto tutti ragazzi e col sorriso sulle labbra mi accingo anch'io alla preparazione della Supercoppa, già detto eh, se la vinciamo sto qualche giorno in Arabia a fare il turista e poi torno, se non dovessimo vincerla non torno più, resto in Arabia, mi spiace, finché non mi scade il visto perlomeno a fine marzo. Ciao a tutti, vi voglio bene, ragazzi, viva l'Inter!